In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne e tante le iniziative organizzate, in mattinata all'interno del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, è stata infatti inaugurata la presenza del Sindaco, del Prefetto e delle autorità del capoluogo etneo, una stanza per le audizioni delle vittime di violenza di genere. La stanza, ribattezzata Stanza Tutta Per Sè, ricavata in un ufficio all'interno del Comando della Stazione dei Carabinieri di Piazza Verga, è stata allestita e arredata al fine di mettere a disposizione delle vittime un ambiente accogliente in cui potersi liberamente aprire. L'iniziativa nasce grazie alla collaborazione tra Soroptimist Club e Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania.